Ciao ragazzi, io sono Stefano Annoardi, istruttore di Muay Thai tradizionale e Krabi Krabong. Nei precedenti video vi avevo illustrato alcune danze guerriere sciamani che praticate con le doppie sciabole o con la spada singola. Mi sono aggiunto alcune domande appunto da utenti, appassionati, atleti, che mi chiedevano che cosa si intende per danza sciamanica o guerriera tailandese. Le danze tailandesi e guerriere si dividono in due parti, quelle praticate a mani nude, che viene chiamata anche Ramwai, e quelle praticate con le armi, che viene chiamata Ramavuta. Queste venivano eseguite dai guerrieri prima di entrare in battaglia oppure prima di un torneo o di un combattimento in cui rischiavano, mettevano appunto in gioco la loro vita, e attraverso l'esecuzione di particolari movimenti che si ispiravano al poema epico Ramachiene, insieme all'esecuzione di mantra particolari, tecniche di respirazione, tutto coordinato dalla musica tradizionale tailandese, pentatonica appunto, chiamata Sarama, riuscivano a raggiungere degli stati di coscienza alterati, modificando appunto la percezione dello spazio e del tempo. Ed è questo appunto anche il segreto dell'invincibilità dei guerrieri tailandesi. Praticata ai nostri giorni, la danza Ramavut o Ramwai equivalgono a una meditazione dinamica e attraverso la continua pratica, si riesce a raggiungere una perfetta sincronia e un perfetto equilibrio tra mente e corpo. Ed è questo un altro aggiovamento naturalmente il nostro fisico, soprattutto negli ultimi tempi. Se avete domande vi consiglio sempre di contattarmi nei miei profili social Facebook, Instagram e Youtube. Per info allenamenti vi chiedo sempre di contattarmi attraverso il mio indirizzo mail e di visitare il mio sito www.stefananoardi.it. Ciao e buon allenamento! Grazie a tutti!